grazie al prossimo video buongiorno amici e come sempre come sempre benvenuti nel mio canale video particolarissimo questa volta ve lo dico subito partiamo subito a bomba perché anche questa domenica anche questo weekend non è stato possibile realizzare il video riparazione delle macchine degli utenti a causa proprio della mancata ricevimento di queste macchine nel primo caso avevamo ritardo nel secondo caso un ritardo mio di richiesta per in attesa che insomma potessi smaltire un po di roba che è qui in laboratorio perché per una serie di strane coincidenze alla fine ho tutta una serie di macchine che sono state riparate abbiamo già visti video ma non sono state riordinate riprese perché i componenti necessari alla riparazione definitiva non sono ancora arrivati però non possiamo passare un altro weekend senza realizzare un video e quindi abbiamo realizzato questo video un po particolare dicevo prima proprio perché non era neanche previsto sono state utilizzate delle clip che sono state fatte realizzate senza sapere se poi venivano mai pubblicate e quindi trovate un po di discontinuità nel video solitamente io mi impegno molto nel realizzare il video di rendere fluibile scorrevole il contesto quindi la riparazione dall'inizio fino alla fine non facendo dei salti temporali per evitare proprio di perdere la logica del ragionamento in questo caso non è così avrei voluto farvi un video riassuntivo delle condizioni delle ricostruzioni ripristino e restauro dell'amica 4000 che per chi mi segue conosce sa com'è la storia però ho comunque voluto registrare alcune clip e queste clip ora le mettiamo insieme e abbiamo formato il video di adesso per cui se c'è della discontinuità e se vedete un video diverso dal solito dove non andiamo a ormeggiare più che tanto sulla riparazione sappiate che dipende da questo qua e solo la prima parte perché mi rendo conto che già così viene un bel malloppone faremo la seconda parte spero che la seconda parte sarà il video conclusivo che vedrà finalmente il nostro amico 8.000 perfettamente operante e funzionante nel nostro laboratorio comunque per il momento non mi dilungo vi lascio alle immagini di cui parte qualcuno le avrà già viste parte hanno avuto delle anticipazioni sul mio gruppo telegram che vi linko qui o qui una parte o da un'altra chi volesse entrare a far parte può entrarci il gruppo è abbastanza attivo per cui insomma c'è il rischio che se perdiate qualche giorno vi ritroverate con qualche centinaia di messaggi di troppo da leggere non vi preoccupate saltateli di più e pari almeno che non trovate l'argomento che vi interessa e poi seguite linearmente la discussione altrimenti ci fa anche piacere che voi ogni tanto entriate ci salutate o esponete i vostri problemi che saranno alla merced di tutti quelli che faranno parte del gruppo e dove tutti si adopereranno per tentare di dare la propria soluzione una propria mano basta con le premesse entriamo subito nel vivo del video ma ora è il momento di togliere il pezzo grosso nel senso in tutti i sensi veramente anche il pezzo più pesante bene allo scatolo c'erano anche il gli accessori per questo cavo flat immagino sia per cd rom o drive hard disk o quello del genere anche se mi sembra un pochino troppo largo ma andiamo a noi andiamo il nostro amiga 4000 che si trova in perfettissime condizioni senza il coprocessore matematico ma assolutamente perfetta evidentemente questa non si trovava all'interno del nostro amiga quando purtroppo è successo il problemaccio con la batteria e questi pezzi di ossido che sono qui lo dicono veramente lunga ok amiga 4000 sotto in quelle condizioni qui abbiamo il case assolutamente ingiallito come la tastiera quindi si sono a tono ma questo come ripeto non è un grande problema andiamo a vedere l'interno ormai per curiosità prima di passare la miglia 500 tolta completamente la scheda scasi perché una octagon del 2008 beh non avete idea di cosa c'è qua dentro ragazzi questa non so se sarà mai recuperabile in qualche modo farò veramente di tutto ci sarà da fare veramente più che un miracolo perché l'acido è finito su due posti differenti cioè si è si è concentrato sotto qui ha fuorato persino il case da una parte un'altra e qui è decisamente molto peggio vi avvicino la camera vi faccio vedere le condizioni il pcb è completamente distrutto e manca addirittura si è dissaldato completamente un componente ok questo è quello che è apparso qua come si vede molto chiaramente qua c'era un pezzo che è completamente saltato le piste e i pad via sono completamente saltati saltati l'ossido ha mangiato tutta questa zona di circuito ma non è concentrata solo qua guardate quelle che cosa è combinato qua tutta la zona ram cioè veramente ne ho viste di tutti i colori ma qua stiamo veramente a livelli altissimi cioè i componenti di questa zona sono completamente andati anche addirittura dalla parte opposta come si può vedere tutto completamente arrugginito o comunque più che arrugginito e ossidato far ripartire questa macchina ammesso che sia mai possibile sarà un vero e proprio miracolo tanto acido e tanto ossido è andato via che ora vi faccio vedere come è messa la parte addirittura opposta alla batteria si trovava in questa posizione e questi sono due fili che praticamente l'avevano collegate andiamo a vedere cosa è successo invece dalla parte opposta qui veramente sconsiglio la visione ai deboli di cuore questa è la condizione della parte di sotto del frame cioè la parte praticamente metallica ci sono i pezzi di metallo andati via direttamente dall'acido della batteria e l'alimentatore non è da meno quindi probabilmente sarà entrato anche nell'alimentatore è saltato completamente questo componente cui ormai non ci stanno più neanche piedini quindi questo tra l'altro è un problema perché va riprogrammato e questo non si identifica più che cosa sia completamente distrutto andato qua abbiamo una vista di insieme bene smantello la scheda madre beh che dire insomma una semplice batteria ha disintegrato completamente non solo il computer ma addirittura anche il case non è recuperabile quasi neanche il case no vabbè non esageriamo è veramente ridotto malissimo inutile ripeterlo nuovamente all'infinito ma in qualche modo cercheremo di recuperare il possibile ho messo delle vd 40 su alcuni punti perché alcune vite chiaramente non vengono via sono saldate direttamente sulla piastra me ne rimane un'ultima qua faccio qualche ulteriore sforzo dopodiché la toglieremo e vedremo le condizioni di sotto che immagino non siano messe meglio di questa qua e credo che a questo punto anche l'alimentatore molto probabilmente sarà ridotto nelle stesse condizioni ok e questo è la parte di sotto d'accordo ricostruire le piste d'accordo cercare di sistemare qualcosa ma l'acido qua completamente forato di parte parte il pcb presumo che purtroppo questa qua non è una macchina ripristinabile sicuramente andrò a recuperare tutto il recuperabile quindi le parti meccaniche la tastiera l'esterno il case eccetera eccetera i chip verranno rimossi totalmente verranno testati uno per uno e probabilmente l'unica operazione che si può tentare di fare è andare a comprare un pcb nuovo che è stato ricostruito tipo le 60 cron del 64 tanto per intenderci e andare a risaldare ripopolare di tutti i componenti che sono funzionanti se ce ne stanno sull'altra scheda questo è l'unica cosa che possiamo provare di fare su questa macchina veramente distrutta questa è la situazione una volta smontata tutte le plastiche dove abbiamo il maggiore ingiallimento si vede in particolar modo su questo pezzo di plastica il coperchio per l'altro bay dal 3 pollice e mezzo ma più o meno tutto quanto è ingiallito il target di colore più o meno dovrebbe essere questo questo è il colore originale che dovrebbe che dovrebbe essere la miga quindi dobbiamo riportare da questo giallo a questo bianco chiaramente andrò a fare anche questa parte che è la parte di sotto la tastiera perché comunque lateralmente non so se viene in video perché sono in una posizione piuttosto scomoda rimane comunque ingiallito chiaramente si vanno a coprire tutti quelli che sono i label e comunque ogni forma di cosa che non è plastica non serve farlo per seri graffite tipo queste qua nient'altro si va di retro brighting e ci si vede subito dopo e qui inizia il lavoro di pulizia sembra che il corriere ce l'abbia fatta la cosa non mi piace tanto c'è l'impronta di un piede sullo scatolo per cui dobbiamo controllare che le condizioni siano a posto si tratta chiaramente amica store senza fare nessuna pubblicità ormai i siti che possono offrirci questi prodotti li conosciamo facciamo un unboxing ok non c'è bisogno della taglierina si fa via dal naso e speriamo veramente che non sia stato messo sotto i piedi ok qui abbiamo il amica 4000 con un ulteriore impacchettamento di hl bene ok fortunatamente sembra assolutamente integra e questa è la scheda del amica 4000 quindi la nuova mainboard proviamo a togliere il cellophan e facciamo una valutazione su sul livello produttivo di questa scheda penso non ci siano problemi perché anche prodotti made in cina hanno già ormai delle qualità eccellente quindi immagino qua a prescindere da dove sia stata fatta la finitura sembra ottima l'originale la conosciamo già mi sembra non ci siano assolutamente differenze è una riproduzione veramente una a uno perfetta del dell'amica 4000 si un ottimo lavoro di reverse engineering tra l'altro sto vedendo che ci sono alcuni accorgimenti che non sono stati pressi sulla scheda originale quindi sono addirittura meglio beh adesso le gran casotto sarà quella di popolare questa scheda perché apparentemente può sembrare che ci siano pochi componenti questa scheda è stata già smantellata dai cip principali ma se andiamo a vedere di dietro ci sono decine decine se non centinaia tra condensatori resistenze smd per cui un bel lavorone che inizieremo quasi subito bene qui abbiamo a confronto le due schede difficoltà andare a risaldare alcuni connettori ad esempio questo qua per via dell'ossido quando lo stagno si danneggia per via dell'ossido è difficile anche da sciogliere con il saldatore non viene via e ci si fa molta difficoltà chiaramente ci sono alcuni connettori di facile reperibilità come ad esempio questi qua ma per esempio lo zocco del cpu è un pochino difficile da trovare se non molto difficile da trovare fortunatamente non è interessato tantissimo dagli acidi e quindi potrebbe essere relativamente facilmente rimovibile questa è la parte di sotto queste sono tutte le componentistiche tutte le restenze condensatori che vanno disassemblati da qua testati e rimontati anche dalla parte di dietro aggiornamento numero uno sinceramente pensavo di non fare questo video sull'amica 4000 o quantomeno non un video vero e proprio di riparazione in quanto neanche di riparazione si tratta è una vera e propria ricostruzione un pochino come quella dell'SX però siccome il lavoro è veramente molto lungo quindi pensavo che il fatto di poter dover produrre un video questo mi rallentasse terribilmente quindi non volevo sporgermi troppo in là nel tempo però voglio tenervi in qualche modo aggiornati con dei piccoli flash e questo è uno di quei piccoli flash nel video saranno compariranno tanti piccoli flash della lavorazione abbiamo visto che inizialmente è stata fatta un'opera di recupero delle meccaniche opera che poi vedremo alla fine complessivamente come è riuscita e questo per bloccare chiaramente l'ossidazione già ormai ampiamente esplosa all'interno del nostro case dopodiché la nostra scheda madre è stata praticamente smantellata di tutti i componenti SMD di piccola taglia per cui tutti i passivi come le restenze ai condensatori ceramici e poi sono stati singolarmente, si lo avete capito bene, singolarmente puliti uno per uno singolarmente puliti uno per uno soprattutto nella zona di contatto dove in alcune zone l'ossido ha fatto veramente il suo brutto effetto ha distrutto praticamente parte del pad e comunque l'ha ossidata in modo tale da non poter essere saldate correttamente qualcuno potrebbe obiettare va bene una restenza che costi mette la nuova la sta ricostruendo nuova e sì una ottima idea se non fosse che praticamente veramente avevo provato a fare l'ordine di una serie di componenti non tutti hanno lo stesso componente bisogna sparare per pochi centesimi ordini un po' in giro per tutta l'Europa e anche oltre Europa e questa è un'altra cosa che praticamente ho notato e veramente tra parentesi grave nel senso che sembrerebbe che per l'elettronica ci sia veramente molto poco spazio in Italia è veramente stato difficile trovare alcuni componenti ho ordinato solo quattro componenti di tutto il recupero di componenti della nostra scheda madre e questi li ho dovuto ordinare dalla Spagna, dalla Polonia, dall'Inghilterra anche quindi con spessi doganali, tempi di attesa eccetera eccetera in ogni modo mi sono arrivati i componenti purtroppo non mi è arrivato il programmatore anzi l'adattatore per il mio programmatore di EEPROM col quale è necessario andare a programmare una GAL che era completamente distrutta e quindi oggi se riesco a popolare la scheda per cui mi manca solamente quella faremo un lavoretto particolare quindi costruiremo un adattatore al volo quanto basta per poter programmare la nostra GAL e poter popolare dell'ultimo componente della nostra scheda della MIGA 4000 ora mi piazzo la camera direttamente sul tavolo vediamo l'opera di trasferimento che è stato lungo e non dico faticoso ma ha richiesto veramente molta molta pazienza e vediamo in che condizioni sono ritornati i componenti, i pin dei componenti che sono stati trattati con aceto d'alcol, sono stati trattati con un VD40 poi sono stati puliti con questa sorta di, adesso lo porto vicino, di spugna abrasiva per poi essere ristagnati con del flussante e quindi poi finalmente saldati sulla scheda nuova andiamo a vedere il lavoro qua abbiamo sulla mia sinistra la scheda originale, qua abbiamo la mineboard con la replica della MIGA 4000 potrebbe non sembrare ma su questa scheda sono presenti centinaia e quando dico centinaia intendo veramente centinaia di resistenze e condensatori ogni sera mi dedicavo quel paio d'ore e mi fermavo più o meno intorno ai 128 pezzi dopodiché la sera dopo continuavo con altri 128 pezzi e via via e tutta questa componentistica è stata trasferita dopo averla estratta, pulita, controllata sulla parte della nuova scheda, quindi sul nuovo PCB questo qua per quanto riguarda il battle layer il lavoro successivo è stato fatto quello di smantellamento dei chip principali che sono stati praticamente trattati, lavati, puliti cercando di recuperare quanto più possibile i pin e l'ossido che praticamente si è depositato sotto il componente stesso compreso ovviamente tutti i TTL, le logiche, gli analogici eccetera eccetera non sono stati eliminati solamente i condensatori questo perché la piastra chiaramente verrà completamente recappata e quindi verranno sostituiti tutti i condensatori con dei condensatori nuovi l'unica cosa è che praticamente non ho recuperato della scheda e qualche resistenza, qualche gruppo di resistenza, qualche condensatore che purtroppo era ormai ridotta veramente molto male per cui ho acquistato le resistenze nuove e sono state montate sulla piastra e sono state montate sul PCB nuovo come si vede ho già smantellato un connettore per il banco di memoria il connettore del CPU questo veramente quasi introvabile per cui ho dovuto sperimentare se la cosa potesse funzionare il connettore completamente distrutto DB25 maschio femmina che è stato in qualche modo recuperato non totalmente ancora meccanicamente ma verrà recuperato anche quello là sulla scheda nuova oggi ho finito di installare quello che riguarda tutte le logiche TTL tutti i circuiti integrati analogici tra cui gli LF357, LM358 non mi ricordo qual era l'altro insomma tutte le logiche TTL anche legal sono state praticamente inserite manca all'appello solamente una GAL che si trova in questa posizione che è la GAL completamente distrutta originale GAL che mi è arrivata regolarmente anzi ne ho ordinate quattro una da un sito perché ne aveva solo una e tre da un altro sito non fidandomi del primo queste però hanno bisogno dell'adattatore per poterle programmare ho ordinato anche altre TTL completamente distrutte non era possibile assolutamente ripristinarle perché i pin erano mangiati fin dall'interno del chip dal package e sono stati installati anche i nuovi TTL per cui ora abbiamo una piastra con completamente tutti i passivi ad eccezione dei condensatori le nostre TTL legal ad eccezione di una di tutti i chip che praticamente mi manca ora da installare e il U250 mi sembra sia questo qui dove devo pulire pin per pin e poi lo andrò a saldare sarà fatto questo lavoro sarà fatto il lavoro di saldatura degli zoccoli e ci vedremo subito dopo prima dell'installazione dei vari connettori che vanno completamente dissaldati e puliti perfetto arrivato a questo punto abbiamo zoccolato tutti i chip custom per cui a questo punto è come se avessimo saldato i componenti ci basta semplicemente inserirli e quindi fate conto che è popolata anche dei chip custom quello che è stato più lungo da fare il controllo delle saldature di ogni singolo pin di ogni singolo chip ovviamente un controllo al microscopio perché ad occhio nudo chiaramente sembravano veramente tutti saldati correttamente ma così non era perché ho dovuto rivedere almeno almeno 5-6 pin sparsi tra i vari componenti per cui è sempre importante fare una verifica strumentale altrimenti poi diventa veramente difficile capire il motivo per cui la macchina non funziona in particolar modo il componente O250 che a causa della pedinatura con un passo molto fine da 1 a 25 dovrebbe essere più o meno questa roba qua non permette delle saldature grossolane devono essere assolutamente fatte perfette altrimenti in mezzo a tutti i pin che ha a disposizione qualcuno rimane sempre sollevato comunque non perfettamente saldato sulla scheda bene fatto questo ora non rimane che andare a popolare di tutto il resto della circuiteria quindi i circuiti integrati gli zoccoli per esempio per le ROM kickster gli zoccoli per le altre due le altre due chip il cristallo filtri eccetera eccetera una volta fatto questo non rimane che mettere i condensatori quindi fare una sorta di recap se vogliamo però con il vantaggio di non dover togliere vecchi e poi in ultimo finalmente in ultimo rimane da saldare tutti i connettori cosa che non dovrebbe volerci molto se non fosse che dobbiamo ricordo bene staccarli dalla scheda madre vecchia e come dicevamo prima essendo tutti completamente ossidati con pin veramente ridotti molto male e non è una cosa semplicissima c'è da popolare tutti i dp switch quindi il connettore del flop il connettore dell'ide connettore d'alimentazione e via via insomma ancora di lavoro ce n'è però diciamo che il grosso del lavoro fortunatamente è stato fatto è stato anche visionato e quindi rettificato andiamo avanti ci vediamo subito dopo perfetto e siamo finalmente arrivati a questo punto diciamo che praticamente l'80% il 90% delle cose sono state fatte tutto il materiale presente sulla vecchia scheda è stato trasferito sulla nuova ad eccezione dei connettori che comunque sono stati completamente smontati si trovano all'interno di questo contenitore insieme con i chip che devono questi qua sono già lavati e trattati gli altri devono ancora essere lavati e trattati e a proposto di lavare e trattare abbiamo qui in lavorazione gli altri connettori alcuni componenti quarsi eccetera eccetera questo per eliminare parte dell'ossido la ruggine e tutto quello che insomma non va bene prima di essere installato sulla scheda madre nuova quindi quello che andrò a fare adesso è lavare i componenti che sono rimasti tutta la nottata a reggire infatti l'acqua trasparente è diventata giallastra andare a ripristinare i contatti di questi connettori e di questi circuiti integrati abbiamo tutti i circuiti integrati della nostra macchina ad eccezione di quelli chiaramente già saldati sulla nuova scheda inseriamo gli zoccoli saldiamo i connettori e ci vediamo subito dopo prima del collaudo dobbiamo trovare una soluzione per la programmazione della galle la galle che abbiamo visto non era recuperabile in questa posizione perché è completamente mangiata dall'ossido le altre componenti li ho trovati tutte le galle vanno programmate purtroppo non mi è arrivato il programmatore in tempo più che il programmatore l'adattatore per il programmatore troveremo un altro modo per programmare la galle dopodiché testeremo la nostra macchina bene lavaggio terminato e il risultato è pressoché eccezionale questa staff era completamente arrugginita sembrava quasi mangiata è ritornata non dico pari a nuovo anche perché non sono stato lì a pulire più di tanto nella fino però è uscito fuori game e mouse una scritta che assolutamente non avevo visto stesso discorso vale per i connettori completamente anneriti dalla ruggine e comunque dall'ossido questo è uscito praticamente quasi come nuovo questo è un pochino meno la soluzione è stata è così aggressiva che è andata via l'annichelatura per cui si vede il rosso della rame di sotto le porte mouse sono assolutamente buone non pari al nuovo ma assolutamente utilizzabilissime quindi anche loro si sono recuperati il pettine del hard disk che era completamente ossidato è ritornato perfettamente funzionale anche se questo qua insomma ne avevo avrei potuto utilizzarle uno nuovo poi vediamo se utilizzerò quello nuovo il regolatore di tensione beh così così lo vado a provare prima e poi lo andremo eventualmente ad utilizzare il connettore della tastiera è ritornato abbastanza funzionale era un blocco di ossido tutto intorno ha lasciato semplicemente delle tracce ma la soluzione anche qui è stata talmente aggressiva che si vede il rosso sotto della rame o del materiale con cui non è prima di essere nichelato forse è troppo aggressivo anche per i quarsi perché sono scomparse completamente le scritte anche se se ne è andata via la luggine sono riuscito a conservare per fortuna un po' di scritte di quest'ultimo per poterlo distinguere dall'altro infatti un quarzo era a 50 MHz l'altro non mi ricordo se era a 28 MHz o giù di lì quindi per esclusione questo è il 50 e questo è il 28 i ponticelli sono ritornati come nuovi poi le verificherò questi vabbè li ho già cambiati ma li ho messi sotto il compensatore che tra l'altro si trova molto raramente questo qua eppure si è sbloccato non si vedeva la vite da tanto ossido non girava ora funziona egregiamente per cui questi sono stati recuperati per quanto riguarda i connettori dell'audio beh ho visto che dentro sono ridotti malino c'è spezzato una gambina insomma questi preferisco sostituirli immediatamente quindi abbiamo ormai tutto quello che serve tutto il connettorame vario questi sono quelli che avevo già trattato precedentemente perché erano molto molto messi meglio rispetto agli altri non avevano bisogno di un granché di manutenzione anche lo anche questa shield che praticamente va a coprire tutta la zona dei connettori frontali era completamente nera non so se poi riesco a trovarvi una foto dove potrebbero la fare vedere ritornata al suo colore questo originale un po' con delle macchie sfregando un altro poco avrei potuto comunque arrivare a pulirlo meglio ma sarebbe stato un pochino troppo aggressivo va benissimo anche così ok non rimane nient'altro se non questo connettore anche lui recuperato in questo modo c'è da ricostruire questa staffa perché è completamente andata nonostante il connettore di per sé funzioni ma questo lo verificherei successivamente beh non rimane che installare saldare tutto il connettorame vario popolare dei componenti gli zoccoli e finalmente non andare al test ma tentare di trovare un modo per programmare la gala ci vediamo subito dopo perfetto lavoro terminato connettori sempre che mi lasci finire connettori inseriti da una parte dall'altra macchina completa si potrebbe già teoricamente provare no ancora no mancano due piccolissimi particolari anzi direi tre da parte di dietro un condensatore da 0.22 che non sono riuscito a recuperare ora vedo se riesco a racimolare qualcosa da mettere al suo posto la gal che deve essere riprogrammata dove si trova qua e purtroppo un regolatore di tensione che vi ho fatto vedere un 79.05 che purtroppo non va bene quindi questi sono i tre componenti che principalmente ora mancano per completare la scheda io intanto ammuto un attimino il dicevo e questi sono i tre componenti che mancano per completare la scheda una gran botta di sedere mettiamola così non ci speravo più non risultava addirittura neanche spedita infatti ho scritto un'email al venditore mi è arrivato questa mattina in maniera assolutamente inaspettata l'adattatore per poter utilizzare il mio programmatore a programmare le gal gal che mi erano regolarmente state recapitate la volta precedente ora abbiamo il programmatore cioè il programmatore lo avevamo già ora abbiamo l'adattatore abbiamo la gal preoccupiamoci di programmare questa gal per poter essere poi saldata direttamente sulla piastra per il condensatore vi dicevo già prima troveremo qualcosa da mettere al suo posto vediamo che funzioni al 79.05 magari è per l'audio o qualcosa del genere al momento non ci interessa per il collaudo quindi lo salteremo lo metteremo non appena disponibile come programmatore utilizzerò il solito mio fido TL8662 Plus programmatore di XG non so neanche come si pronuncia XG EQ comunque una marca cinese che comunque fa assolutamente il suo sporco lavoro io ho programmato il processore della picco ho programmato il processore dell'arma ho programmato dell'eprom testato alcuni circuiti logici quello un pochino meno affidabile insomma un buon prodotto per il prezzo che ha poi si sente lamentare anche magari per un programmatore da 30-50 euro probabilmente sono dei nubi che non sapevano ai nostri tempi d'oro gli anni 80-90 quanto costava un programmatore molto più scarso di questo qua ci voleva praticamente uno stipendio ok abbiamo il nostro adattatore andiamo ad inserire praticamente la gal andiamo ad inserire il nostro adattatore insieme con la PLA e una volta inserita andiamo a caricare il nostro programma bene andiamo a selezionare come circuito integrato la nostra gal quindi gal 16 v8 e selezioniamo quella della lattice perché è esattamente quella che ci è arrivata bene è arrivato a questo punto non rimane altro che andare a caricare il programma che è stato scaricato dal sito quindi avevamo praticamente la U714 come si vede qui prendiamo il file GED e lo andiamo ad aprire e questo è il programma praticamente interno alla gal ora andiamo praticamente a togliere il pin detect perché altrimenti potrebbe dare dei problemi e verificare con il blank check se effettivamente la gal che abbiamo appena acquistato è completamente pulita in effetti così possiamo andarla a cancellare giusto per vedere se scrive scrive correttamente la verifica del blank check avviene correttamente quindi possiamo andare a verificare che la gal è stata correttamente scritta cioè praticamente cancellata tutto con 0 ricarichiamo il file GED per poterlo stavolta veramente andare a programmare all'interno della nostra gal e con program una volta che abbiamo tolto il lock bit andiamo a programmarlo pochi secondi di attesa e finalmente abbiamo il nostro programma nella gala infatti programming successfull senza problemi facciamo un'ulteriore verifica anche se è stata fatta a fine programmazione e verifichiamo che è tutto ok bene l'ultimo chip questo qua posso anche farvelo vedere la saldatura anche se il processo di saldatura degli altri chip non è stato assolutamente uguale a questo ma siccome l'ultimo è inutile attrezzare diversamente il banco la saldatura e chip saldato ok sembra essere giunto il mitico momento dell'inserimento dei componenti quindi andiamo a popolare la nostra scheda partiamo dal primo chip che ha a disposizione che cos'è questo qua a dv praticamente l'encoder e lo andiamo a posizionare nella sua posizione che è questa primo chip inserito secondo chip abbiamo un bel alice che qua poi cosa abbiamo di bello ram 6 mi sembra che si trovi qua giù ok poi abbiamo fat gheri fat gheri controllo dei pin veloce anche se è stato già pulito lo andiamo a posizionare qui poi abbiamo paula ok 8364 dove è finito dovrebbe essere questo pin mi sembra tutto ok quindi andiamo a piazzare paula qui ok poi abbiamo una prima cia sicuramente è rimasta ormai solo quella lì e lo andiamo a piazzare qua e una seconda cia che andiamo a controllare pin e lo andiamo a piazzare nella sua posizione perfetto mi rimane alice e super buster ora mentre alice lo vado a cercare super buster dovrei avere io una versione che non so se è buggata o non mi ritrovo questa versione di super buster che se non ricordo male apparteneva realmente al mio amica 4.000 esatto quando feci l'upgrade con la scheda rtg sicuramente non sarà la versione adatta delle super buster ma sicuramente dovrebbe far avviare comunque la macchina quindi andiamo a piazzare anche il nostro super buster ci manca alice come dicevamo prima ma ancora vediamo che ci sono altri quattro componenti più le ram quindi abbiamo la rom kiksa che va anch'essa pulita vabbè vi evito la pulitura dei pin perché ci vuole un pochino di tempo quindi vi stacco un attimo pulisco i pin e l'andiamo ad inserire purtroppo nel nel pulire le pin delle rom kiksa ma anche degli altri due chip mi sono reso conto che tutte le ram tutto il banco ram ad eccezione di due sul lato sinistro quello più vicino a batterie anche loro hanno preso un botto di ossido e non l'avevo notato inizialmente non mi ero preoccupato delle ram in quanto sollevate dagli zoccoli ma mancano completamente i pin sono praticamente saltati via per cui sicuramente avremo problemi di ram ora non so queste tre se sono sufficienti non mi ricordo più se devono essere appaiate di banco a banco a banchi alterni eccetera eccetera in ogni caso sicuramente ci sarà qualche problema di ram comunque per il momento continuiamo a pulire i pin di quel poco che è rimasto inserisco Alice e ci vediamo subito dopo va bene alla fine proviamo ad inserire comunque tutto quanto il circuito sicuramente sarà veramente molto difficile che questa macchina parti al primo colpo quindi alla fine dei conti proviamola in questo modo questa è un 176 questa è un 175 per cui inseriamo anche le ram kickster vi ricordo gli zoccoli sono vergini e ricevono per la prima volta il loro circuito integrato ok montiamo inizialmente le rom kickster originali sperando in una botta di sederino e che parti tutto al primo colpo cioè impensabile poi eventualmente metteremo delle rom diagnostiche se il funzionamento della macchina non dovesse essere in qualche modo perfetto fin da subito quindi popoliamo anche le ram senza le quali abbiamo un miserabile schermo verde prima è andata seconda è andata terza è andata quarta è andata e quinta non va perché è più grossa e quindi questa qua mi sa che verrebbe la prima della parte opposta io la lascerei inizialmente senza un banco anche perché qui ho visto che è andata via una clip sperando che in qualche modo parti anche in queste condizioni va bene mettiamo Alice bene ragazzi ci eravamo lasciati qualche frame fa con la necessità di dover testare la macchina di inserire io ho detto Alice non mi ricordo più neanche che cosa ho detto in effetti intendevo chiaramente il super cioè più che il super sì giusto il super buster che nella versione originale era la revisione 11 nella versione che ho a disposizione di un mio vecchio amica era la versione numero 9 quindi non adatto per esempio per l'utilizzo di alcuni tipi di schede zorro ma questo chiaramente a me non preoccupava o non mi preoccupa perché l'importante per il momento è accendere e far funzionare correttamente la macchina dopodiché le registrazioni successive sono state praticamente distrutte a causa di un problema audio io sono afflitto dai problemi audio ho cambiato non so quanti sistemi audio forse già nelle video precedenti che ho lasciato c'è qualche glitch o qualche mancanza eccetera eccetera poi si è mutito completamente sono andato comunque avanti nel collaudo e quindi anche nella riparazione perché vediamo che poi la macchina in effetti non è partita per chi avesse visto la live della domenica scorsa ha sentito praticamente che una volta collaudata questa piastra la piastra non dava assolutamente segni di vita quindi immaginavo qualcosa tipo un segnale di clock mancante oppure più che altro un segnale di reset mancante perché avevo trovato che il segnale di reset era un pochino strano in effetti poi successivamente dovuto a una ricerca ho trovato che mancava effettivamente il clock sul processore quindi chiaramente non poteva funzionare assolutamente nulla il problema del clock era veramente una fesseria in pratica l'Amiga 4000 ha la possibilità di gestire tramite dei dp switch un clock interno cioè viene generato il clock del processore tramite un oscillatore interno e può essere mandato direttamente alla scheda CPU siccome l'Amiga 4000 ha la possibilità di cambiare processore, scheda processore e alcune schede processore sono collocate con velocità superiori a quelle di default che stanno sulla piastra madre è possibile che la scheda CPU monti un suo processore e anche un non suo clock proprietario un clock diciamo più alto di frequenza rispetto a quello della mainboard conseguentemente è possibile sguicciare dalla mainboard il sistema di clock che sia interno ed esterno beh evidentemente questa scheda quando mi è stata data era installato un altro processore un processore con clock interno per cui i giamperini erano semplicemente settati su clock esterno quindi sul clock generato dalla scheda CPU quindi una banalità una banalità però che mi ha fatto perdere un po' di tempo nella ricerca dei vari segnali mancanti fino ad arrivare a capire che mancava il clock sul processore guardando lo schema ma più che lo schema un manuale di configurazione a parte della Amiga 4000 ho capito che quei dp switch servivano per il clock interno ed esterno una nota al riguardo mentre sulla mainboard soprattutto alcune versioni l'indicazione dei vari dp switch anzi dei vari jumper che è più corretto sono indicate nella serigrafia su questa della replica stranamente no è perfetta in tutto e per tutto ma praticamente il jumper è indicato come normalmente avviene sugli schematici con la sua giusta nomenclatura quindi ad esempio J501 per dire però non è indicata la funzionalità del jumper quando si può spostare da una parte all'altra cosa che ho visto invece presente sulla scheda originale e ancora più presente su altre schede di altre versioni di Amiga 4000 aperta e chiusa a parentesi clock questa macchina finalmente parte ma il Kix non sa via continua ad avere un brutale schermo nero quindi è stato installato le ROM diagnostiche nelle ultimissime release per Amiga 4000 e con queste ROM diagnostiche ho visto che la macchina aveva attività streammava regolarmente sulla seriale i suoi dati quindi la ROM diagnostica partiva regolarmente la maggior parte dei test venivano eseguiti correttamente ad eccezione dei test di IRQ ad eccezione dei test grafici che non mostravano comunque ancora niente a video e in più l'audio era veramente molto 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 basso praticamente quasi nullo trovato solo tramite oscilloscopio perché nelle casse non si sentivano messe un paio di casse belle amplificate come si deve ho incominciato a sentire sottofondo l'audio ed è stata fatta un'investigazione in questo senso riassumendo avevamo l'ultimo circuito integrato di preamplificazione quindi l'ultimo amplificatore operazionale della sezione audio dell'Amica 4000 completamente in cortocircuito in uscita cioè l'output stava a più VCC anziché avere un output retrazionato dai piedini invertenti e non invertenti in pratica non preamplificava un tubo semplicemente dava un segnale altissimo e quindi è stato trovato abbastanza facilmente e velocemente una volta capito che l'audio c'era anzi una volta sentito che l'audio c'era anche ad orecchio finalmente si riusciva a sentire l'attività della macchina attività che veniva interrotta periodicamente inizialmente pensavo un falso contatto perché coincidentalmente l'audio si bloccava più che si bloccava frizzava la macchina quando andavo a toccare sulla mainboard alla fine ho scoperto che era una pura coincidenza e che il problema stava nel Superbuster che avevo montato da parte mia quindi è stato tolto il Superbuster revisione 9 è stato lavato, trattato lavorato meccanicamente il Superbuster originale per togliere la ruggine per arrivare a trovare all'interno del package del chip i piedini quanto basta per poter saldare il filettino è stato ricostruito in qualche modo un pin inserito nello zoccolo e con il Superbuster 11 questo non avviene quindi è stato recuperato l'introvabile Superbuster 11 che mediamente si trova quando si trova sui 180 euro quindi non una spessuccia da poco ed è stato completamente recuperato adesso ci troviamo con una mainboard con il regolatore di tensione inserito quindi funzionante l'LM883 che era il chip originale di preamplificazione sostituito con un LF353 almeno per il momento assolutamente P2P incompatibile che funziona meravigliosamente bene e l'unico problema anzi gli unici due problemi che apparentemente abbiamo con quello che abbiamo potuto testare sono il fatto che su video non abbiamo quasi nulla e lì un'indagine ha portato ad aditare come possibile responsabile il DAC che è stato ordinato ma ci vorrà almeno un mese perché arriverà purtroppo dalla Cina è il fatto che la macchina in qualunque modo qualunque configurazione possibile immaginabile non riesca a riconoscere più di un megabyte di chip RAM la fast RAM la riconosce correttamente ma la chip RAM sempre e comunque esclusivamente un mega ora questo potrebbe dipendere da una compatibilità della tipologia di memoria sim ma non ne sono certo nel senso che io ne ho provate diverse e tutte quante mi danno lo stesso problema tra l'altro tra le memorie già inserite nella macchina che dovevano funzionare ne ho trovate mi sembra due o tre guaste forse due queste due guaste tra l'altro erano quelle messe meglio dal punto di vista della pedinatura che non erano state toccate dall'acido mentre le altre toccate dall'acido pulite e sistemate hanno funzionato correttamente vi avvicino la camera qui sullo tavolo vediamo quali sono i componenti finora sostituiti e andiamo a testare la macchina per farvi vedere dove siamo arrivati nella riparazione questo chiaramente diciamo questo chiaramente sarà la parte numero uno dell'assemblaggio di questa macchina ci rivedremo poi quando la macchina sarà completamente funzionante e con la scheda inserita nel suo case insieme con tutto il resto delle funzionalità questo riassumente tutto quello che è stato sostituito comunque è stato trovato guasto finora abbiamo questi due banchi di ram questo molto probabilmente dal fatto che è doppio era sicuramente inserito nel bank 0 l'unica parte dove può essere inserito senza dar fastidio ad altre memorie e quest'altro praticamente hanno dei difetti su alcuni bit poi avevamo le super buster che adesso questa qua è la mia versione 9 ma l'11 praticamente danneggiato per il momento è temporaneamente montato sulla sua scheda originale e l'ISA che ha anche gli stessi problemi del super buster con i piedini completamente corrosi e mangiati probabilmente questa lisa se avesse la possibilità di recuperare se avessi la possibilità di recuperare i pin sarebbe anche lei funzionante l'LM883 come dicevo prima praticamente l'ultimo preamplificatore operazionale del della circuito audio è l'LF 347 che è il primo preamplificatore operazionale questo probabilmente funzionante l'ho sostituito quando ho fatto la ricerca perché non sapevo se era il primo o il secondo chiaramente una volta funzionante non sono andato a ripristinare questo questo a limite lo ritesterò e in caso andrà a finire nuovamente nella cassettiera mentre il 7905 sicuramente guasto il TL646 stante 646 senza neanche un pin come si può vedere chiaramente qua quindi questo è stato sostituito e come abbiamo visto poc'anzi questa gal completamente senza nessun pin bene tutto sommato diciamo che non è un grosso problema chiaro è che molti dei componenti che avremmo dovuto poi sostituire sono stati molto pazientemente a carico di centinaia di ore di lavoro ormai da un mess a questa parte ripristinati quindi non sono stati sostituiti non è stato necessario l'acquisto ma chiaramente si è investito in tempo benissimo siamo solita postazione di collado è connesso il monitor solito monitor tramite il modulatore la 520 al nostro amica 4000 che è stato praticamente messo che è stato completamente popolato di tutto quello che serve è dove le rom diagnostiche sono state inserite al posto delle classiche rom kickster non vedremo un granché sul monitor il nostro tft color questo è uno dei problemi principali di questa di questa macchina per il momento ma vi farò vedere che la macchina già esegue le istruzioni insomma ha tutte le funzionalità che servono tranne l'auto.punto video che non dipende dalla parte digitale ma dalla parte analogica come dicevo prima da tutto il contesto che ho già visionato sembrerebbe essere un problema di DAC quindi andiamo ad aprire comunque il terminale per poterci in qualche modo interfacciare alla nostra amica quindi vedremo l'autoput sul monitor del pc ed andiamo ad accendere come si vede il nostro amica 4000 comincia a streamare a fare i test e quindi a testare la ram la ram chip la ram fast eccetera eccetera si vede su questo schermo qualcosina ecco viene riconosciuto 8 mega di fast ram e un megabyte solamente di chip quando sullo zoccolo della chip ram abbiamo 4 mega chiaramente 4 mega non li può indirizzare ma 2 mega avrebbe dovuto farmeli vedere possiamo navigare il menu del nostro diagnostico anche direttante col mouse che quindi funziona va pulito ma chiaramente questo è un mio mouse non c'entra nulla andiamo ad audio test per farvi vedere che la macchina risponde correttamente anche su questo qua proviamo a fare play test module e come avete modo di sentire l'audio è assolutamente perfetto quindi in questo momento la macchina sta praticamente funzionando il cpu sta elaborando quello che le rom diagnostiche gli stanno dicendo si sta utilizzando la ram che viene data per ok il cp video sta generando un quadro anche se completamente buio ma abbiamo visto che nelle zone diciamo più chiare per un attimo compare questo è un classico problema proprio di gain dell'output video analogico delle nostre amiche quindi per questo punto il dito sul sul convertitore analogico digitale anche perché tutto il resto della componentistica è stata testata e funziona correttamente a meno che non ci siano problemi proprio sul pcb non può esserci altro ma il pcb credo che è stato montato da più di una persona e quindi lo diamo per scontato che non è danneggiato ok usciamo da questo da questo menu dove abbiamo visto che funziona tutto proviamo a fare il test delle cia per esempio e come si vede anche il test delle cia funziona regolarmente viene testata sia la cia A che la cia B e quando viene testata la cia si vede anche qualche cosa qui sul sul monitor chiaramente non perfettamente ma questo qua era vabbè non ha senso fare altro possiamo provare a fare del graphic test e farvi vedere che nel graphic test la macchina tenterebbe di produrre un output video ve lo metto a favore di camera ecco qua si vede chiaramente il monoscopio diagnostic key to exit però il segnale non è agganciato correttamente viene visualizzato esclusivamente perché ci sono delle zone bianche infatti nelle zone bianche tutta la colonna anzi tutta la riga viene visualizzata nelle colonne più scure cioè voglio dire nelle zone più scure non viene visualizzato assolutamente nulla e questo come dicevo prima per me è un difetto apparentemente di convertitore a questo punto io direi di fare un'operazione abbastanza semplice che è quella di andare a rimuovere la scheda cpu togliere le rom kickst cioè voglio magari togliere le rom diagnostiche e andare a reinserire invece le sue rom kickstall rom kickstall che non mostreranno affatto il classico menu iniziale di richiesta di inserimento del floppy perché non riesce ad avere un output video decente però noi facciamo una cosa lo andiamo a popolare con un flop disk e proviamo a caricare un gioco anziché il flop disk per comodità andiamo a mettere un gotek ma sarà la stessa cosa quindi gotek pronto lo alimentiamo chiaramente e andiamo ad accendere adesso c'è wonder boy proviamo a prendere qualcosa di conosciuto non lo so proviamo croins ok vediamo intanto se butta dal dischetto ok è iniziato a caricare e come si vede sul monitor incomincia a comparire tenua tenua l'immagine del workbench con una freccettina rossa veramente molto tenua quasi invisibile ora è praticamente uno schermo nero quello che mi interessa è vedere che il caricamento del gioco sta avvenendo per cui l'attività del riconoscimento dell'interfaccia floppy c'è e quindi se sta caricando un gioco prima o dopo ci dovrà far sentire l'audio di questo gioco qua sperando che sia un gioco che parti con un audio non appena arrivato in ogni caso le tracce stanno leggendo correttamente dal suono che sento di caricamento tutto è regolare è infatti partito l'audio è partito l'audio e non so se avviene a video nella zona bassa dove i fonti sono praticamente bianchi si intravede qualcosa nelle zone più chiare chiaramente l'audio è assolutamente perfetto ok spegniamo bene è chiaro che la Amiga 4000 non so se funzionerà al 100% ancora ma a grandi linee la macchina sta già funzionando riconosce il floppy disk probabilmente riconoscerà anche l'interfaccia IDE questo me ne accerterò di qui a brevissimo non so se verrà realizzato questo test all'interno di questo video che già è durato moltissimo ma giusto per conferma che praticamente sta andando cioè sta girando qualcosa a parte il megabyte di cpram che tutto da indagare potrebbe in qualche modo essere anche un problema semplicemente di sim il resto della macchina se avessimo un'immagine perfetta l'avremmo praticamente considerata riparata non è così abbiamo visto che vediamo solo qualche cosa bianca e a me è venuto uno di quei pallini di quei dubbi ma soprattutto di quelle idee strampalate che però mi portano sempre bene nel senso che poi alla fine sono sempre valide se ho un'immagine con tutto nero e delle zone bianche leggermente visibili siccome il bianco in analogico viene generato col massimo dell'attenzione che si può dare sul segnale video a mio modo di vedere se io trovassi adesso un gioco con uno schermo profondamente chiaro o comunque prevalentemente bianco molto probabilmente potremmo vedere proprio il gioco magari con colori super tenui come abbiamo visto perché si illumina solo la zona diciamo più chiara ma ci darebbe il senso che stiamo vedendo veramente qualcosa adesso faccio così cerco a memoria di trovare un gioco che possa essere più chiaro possibile vedo se trovo qualcosa con degli sfondi molto chiari lo carico all'interno della sd card anzi della mia usb dopodiché lo andremo a testare andiamo a vedere se riusciamo a vedere qualcosa per darci il senso che insomma questa macchina in qualche modo sta funzionando se dovesse essere questo un'altra idea che mi è venuta insana e quella per evitare di attendere fino all'arrivo del chip che comunque verrà dovremmo attendere ma per capire meglio se la macchina a questo punto veramente il problema sta sul DAC mi è venuto in mente di andare a fare un adattatore per poter utilizzare il DAC delle altre macchine per esempio quello del cd32 o della miga 1200 sul 4000 ricordo che il DAC del cd32 così come quello della miga 1200 anche se marca la stessa il modello è completamente diverso quindi non sono compatibili hanno le stesse identiche funzionalità ma non sono pin to pin compatibili devo andare a scavare un pochino meglio nei datasheet di entrambi i due DAC per capire le grosse differenze funzionali e capire se adattando la pd natura delle DAC di cui ne ho a disposizione qualcuno della miga 1200 cd32 posso in qualche modo andarlo sempre temporaneamente ad inserirlo sulla miga 4000 per poter vedere finalmente questo bel quadro aperto non so se riusciremo anche questo in questo video qua probabilmente no però lo farò lo stesso e quindi se dovessimo avere degli esiti immediatamente positivi nell'arco della giornata cioè nel tempo utile per il montaggio del video verrà inserito altrimenti aspetteremo purtroppo l'arrivo del prossimo DAC per il completamento del video e quindi la finalizzazione della riparazione ricostruzione e montaggio di questa miga 4000 ora ci vediamo subito dopo aver trovato qualche gioco che in qualche modo abbia uno schermo più chiaro possibile bene ragazzi sembra che abbia trovato il programma ideale è una sorta di slalom gigante quindi qualcosa che si svolge un gioco diciamo non proprio eccezionale dal punto di vista della giocabilità della grafica eccetera eccetera insomma un giochino ma a me interessava che fosse con uno schermo più bianco possibile e siccome questo qua è un omino che scende giù facendo uno slalom nella neve è completamente bianco quindi potrebbe essere il candidato ideale andiamo ad accendere la nostra macchina e selezioniamo anziché croin ok slalom speciale vedremo se in questo caso riusciremo a notare qualcosa di più sul nostro schermo che purtroppo ci dà sempre solo un brutto black screen intanto vediamo se inizia caricamento perché questo adf l'ho appena caricato sembrano volersi avviare probabilmente c'è qualcosa che non va nell'adf ah no no è partito ok è partito il caricamento di slalom gigante vedremo se quando arriverà il gioco ci sarà oh eccolo qua e in effetti in effetti incomincia a vedersi qualcosa Luca vabbè Luca non si legge molto Luca carme qualcosa perché è un giallo scuro slalom speciale anno 1993 revisione 1993 e 1997 scegli la pista ok mouse no proviamo col joystick ah ok col joystick è possibile muoversi ordine di partenza ok c'è l'ordine di partenza perfetto e si vede si vede insomma non è una cosa eccezionale ma si vede provo a posarlo qui sperando che ok non si vede un gioiellino considerate che sta funzionando però ecco qua il gioco finalmente si vede non si vede l'avvio del oddio insomma tanto selvaggio non è sono io che faccio proprio schifo a questa velocità ma però è squalificato si vede la pista ecco si vede male si vede con queste bande perché ripeto dove c'è un colore chiaro abbiamo tutta la riga visibile dove c'è un colore scuro tutta la riga diventa scura quindi però è chiaro che il nostro Amiga sta funzionando ora non sto neanche giocando quindi facciamola arrivare fino in fondo giusto per il gusto di sembrare che il nostro Amiga funzioni va bene io immagino che effettivamente il problema di questa macchina sia sulla generazione video e quindi sul nostro DAC purtroppo dovremmo attendere se arriveranno spero meno di un mesetto ma un mesetto passerà ci vedremo quasi sicuramente in un prossimo video magari non proprio vicino nel tempo ma spero che una volta che ci vedremo con il prossimo video sarà con questa scheda completamente finita quindi col bassozzorro inserito nella sua completezza la scheda inserita nella la scheda inserita nella sua macchina la macchina la testeremo come si deve una volta terminata ed eccoci arrivati alla parte finale ormai di questo lunghissimo video video veramente lungo spero non vi siate annoiati ma considerate che non riuscivo a sintetizzarlo più di questo considerando che ci sono praticamente un mese di lavoro se non di più due ore la sera sicuramente spessi tutti i giorni potevo fare come tanti altri youtuber massimizzare il profitto e quindi fare tanti piccoli video da un quarto d'ora sarei andato praticamente di interessi per i prossimi due o tre mesi ma a me piace essere concreto e quindi offrirvi dei contenuti per chi li vuole seguire fino in fondo completi o più o meno completi ci sarà chiaramente una seconda parte una seconda parte dove spero vedremo poi la mica 4000 completamente montato totalmente funzionante dove farò il riassunto di tutte le lavorazioni necessarie per raggiungere quel risultato e a proposito di risultato quest'anno è veramente un anno decisivo per il canale che è stato aperto tre anni fa chi mi segue da molto tempo lo sa quasi per caso approfittando del periodo pandemico e adesso sta prendendo una svolta già dalla metà dello scorso anno una svolta per cui sarà necessario valutare se mandare avanti ancora il canale terminarlo lasciarlo cancellarlo insomma ci sono una serie di opzioni spero di andare veramente molto avanti a questo punto mi dispiacerebbe buttare tre anni di lavoro conseguentemente se siete arrivati fino a qua un bel like sotto non costa nulla ma mantenete vivo il canale vi posso offrire dei nuovi contenuti se non siete ancora iscritti al canale e volete iscrivervi questo mi fa sempre molto piacere mi incentiva a fare sempre molto meglio e molto di più e magari salvare qualche altro Commodore negli anni a venire con questo è veramente tutto al prossimo video ciao ciao